Droga occultata in veicoli, piante, bidoni della spazzatura e anfratti murari. Trasporti celati da sedi a rotelle o effettuati da una bimba di 10 anni. Eccessioni compiute davanti a minori. Così una famiglia di cellie messapica nel Brindisino aveva messo su un fiorente e il radicato mercato di spaccio. A capo tre fratelli di cui uno diversamente abile e la moglie di uno di loro nonché una moltitudine di collaboratori e piccoli spacciatori. L'indagine che coinvolge in totale 14 persone e ha visto venerdì scorso l'arresto di 5 di loro, tre in carcere e due i domiciliari, è stata svolta dai carabinieri che tra maggio e agosto 2022 intensificando i controlli per contrastare lo spaccio, avevano registrato un numero fiorente di assuntori di eroina e cocaina in particolare. Pedinamenti e appostamenti hanno condotto i militari all'abitazione dei tre fratelli, base logistica per la custodia, dove è stata registrata la presenza di circa 70 acquirenti. L'accusa, alla base dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi ed eseguita dai carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni con lo squadrone eliportato Carabinieri Puglia e il nucleo Cinofili di Modugno, è di traffico di sostanze stupefacenti continuato e pluriaggravato per i due principali protagonisti della vicenda.